ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i buciardini in questo video ti leggo il buciardino del farmaco nuvic che drion spa ultimo aggiornamento 15 febbraio 2022 cos'è nuvic confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere nuvic durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinettiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è nuvic nuvic è un farmaco a base del principio attivo simoctocog alfa appartenente alla categoria degli anti emorragici vitamina k e nello specifico fattori della coagulazione del sangue è commercializzato in italia dall'azienda che drion spa nuvic può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni nuvic 1000 ui polvere e solvente per soluzione in it uso ev 1 fl.no nuvic 2000 ui polvere e solvente per soluzione in it uso ev 1 flaconcino nuvic 250 ui polvere e solvente per soluzione in it uso ev 1 flaconcino nuvic 2500 ui polv x soluzione in it ev 1 fl.no 2500 ui più 1 sir per 2,5 ml più 1 dati più 1 ago più 2 tamp nuvic 3000 ui polv x soluzione in it ev 1 fl.no i più 1 sir per 2,5 ml più 1 dati più 1 ago più 2 tamp nuvic 4000 ui polv per soluzione in it ev 1 fl.no più 1 sir per 2,5 ml più 1 dati più 1 ago più 2 tamp nuvic 500 ui polvere e solvente per soluzione in it uso ev 1 flaconcino informazioni commerciali sulla prescrizione titolare octa farm ab concessionario che drion spa ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio più attivo simoctocog alfa gruppo terapeutico anti emorragici vitamina k forma farmaceutica soluzione uso interno indicazioni trattamento e profilassi degli eventi emorragici in pazienti con emofilia deficit congenito del fattore vi nuvic può essere usato in tutte le fasce d'età posologia il trattamento deve avvenire sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento dell'emofilia monitoraggio del trattamento durante il ciclo di trattamento si consiglia di eseguire un'idonea determinazione dei livelli del fattore vi il cui scopo è di fungere da orientamento per la dose da somministrare e la frequenza delle infusioni ripetute la risposta al fattore vi dei singoli pazienti può variare dimostrando emibite e recuperi diversi è possibile che sia necessario aggiustare la dose basata sul peso corporeo in pazienti sottopeso o sovrappeso in particolare in caso di interventi chirurgici maggiori è indispensabile effettuare un accurato monitoraggio della terapia sostitutiva mediante analisi della coagulazione attività plasmatica del fattore vi quando viene utilizzato un saggio di coagulazione monofase in vitro basato sul tempo di tromboplastina apt per determinare l'attività del fattore vi nei campioni ematici dei pazienti i risultati dell'attività plasmatica del fattore vi possono essere influenzati in modo significativo dal tipo del reagente apt e dallo standard di riferimento utilizzati nel saggio inoltre possono esserci discrepanze significative tra i risultati ottenuti con il saggio di coagulazione monofase basato su apt e il saggio cromogenico secondo ph eur questo è importante in particolare quando si cambia laboratorio e barra o i reagenti utilizzati nel saggio posologia la dose e la durata della terapia sostitutiva dipendono dalla gravità del deficit di fattore vi dalla localizzazione ed estensione dell'emorragia e dalle condizioni cliniche del paziente il numero di unità di fattore vi somministrate è espresso in unità internazionali ui che sono correlati allo standard o ms vigente per il concentrato relativamente ai prodotti a base di fattore vi l'attività plasmatica del fattore vi viene espressa in percentuale riferita al plasma umano normale o preferibilmente in unità internazionali riferite allo standard internazionale per il fattore vi plasmatico una unità internazionale ui di attività di fattore vi è equivalente alla quantità di fattore vi contenuta in un ml di plasma umano normale trattamento al bisogno il calcolo delle dose necessaria di fattore vi si basa sulla considerazione empirica che un'unità internazionale ui di fattore vi per chilogrammi di peso corporeo aumenta l'attività plasmatica del fattore vi di circa il 2 per cento dell'attività normale o di 2 ui barra dl la dose necessaria viene determinata servendosi della formula seguente unità richieste uguale peso corporeo chilogrammi x aumento di fattore vi desiderato per cento ui barra dl x 0,5 ui barra chilogrammi per ui barra dl aumento di fattore vi previsto per cento del normale uguale 2 x ui somministrate peso corporeo chilogrammi la quantità da somministrare e la frequenza di somministrazione devono essere sempre orientate all'efficacia clinica nei singoli casi nel caso degli eventi emorragici seguenti l'attività del fattore vi non deve scendere al di sotto del livello di attività plasmatica indicato in per cento del normale ui barra dl nel periodo corrispondente la tabella qui di seguito è utilizzabile per guidare il dosaggio negli episodi di sanguinamento e negli interventi chirurgici grado dell'emorragia barra tipo di procedura chirurgica livello di fattore vi necessario per cento ui barra dl frequenza delle dosi ore barra durata della terapia giorni emorragia e martro in fase iniziale emorragia muscolare o emorragia orale 20 40 ripetere ogni 12 24 ore per almeno uno giorno finché l'episodio emorragico nella misura indicata dal dolore non si risolve o non si giunge a guarigione e martro più esteso emorragia muscolare o ematoma 30 60 ripetere l'infusione ogni 12 24 ore per 3 4 giorni o più finché il dolore e la disabilità acuta non si risolvono emorragie potenzialmente fatali 60 100 ripetere l'infusione ogni 8 24 ore finché la minaccia non scompare intervento chirurgico intervento chirurgico minore tra cui estrazione dentaria 30 60 ogni 24 ore per almeno uno giorno finché non si giunge a guarigione intervento chirurgico maggiore 80 100 pre e post operatorio ripetere l'infusione ogni 8 24 ore finché non si raggiunge un'adeguata guarigione della ferita quindi terapia per almeno 7 giorni per mantenere un'attività del fattore vi del 30 60 per cento ui barra dl profilassi per la profilassi anti emorragica a lungo termine in pazienti affetti da emofilia grave le dosi consuete sono di 20 40 ui di fattore vi per chilogrammi di peso corporeo intervalli di 23 giorni in alcuni casi soprattutto nei pazienti più giovani potrebbero essere necessari intervalli di somministrazione più brevi o dosi più elevate popolazione pediatrica la posologia è identica negli adulti e nei bambini tuttavia nel caso dei bambini potrebbero essere necessari intervalli di somministrazione più brevi o dosi più elevate i dati al momento disponibili sono riportati nel paragrafo 4 8 5 1 e 5 2 modo di somministrazione nuvica per uso endovinoso si raccomanda di non somministrare più di 4 ml al minuto per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione vedere paragrafo 66 controindicazioni per sensibilità al ai principio i attivo i o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 61 avvertenze speciali e precauzioni di impiego ipersensibilità come per qualsiasi prodotto per uso endovinoso a base di proteine sono possibili reazioni dai per sensibilità di tipo allergico nuvic contiene tracce di proteine delle cellule ospiti umane diverse vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non sono stati effettuati studi di interazione con nuvic vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it assumere nuvic durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere nuvic durante la gravidanza e l'allattamento non sono stati condotti studi sulla riproduzione negli animali con uvic sulla base della rara manifestazione dell'emofilia nella donna l'esperienza relativa all'uso del fattore vi durante la gravidanza e vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non è stato osservato alcun effetto di nuvic sulla capacità di guidare veicoli o di azionare macchinari effetti indesiderati sintesi del profilo di sicurezza sono state osservate raramente reazioni di ipersensibilità allergiche che possono comprendere angio edema bruciore e sensazioni urticante in sede di infusione brividi vampate cefalea orticaria vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio non sono stati segnalati casi di sovradosaggio proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica anti emorragici fattore vi della coagulazione del sangue codice atc b02 di b02 il complesso fattore vi barra fattore di fondi le brand è formato da due molecole fattore vi e fattore fondi le brand proprietà farmacocinetiche tabella 2 parametri di farmacocinetica pk per nuvic dose 50 ui barra kg in pazienti adulti trattati in precedenza età 18 65 anni affetti da emofilia grave n uguale 20 dati preclinici di sicurezza negli studi preclinici nuvi che è stato usato per il ripristino sicuro ed efficace delle mostasi nei cani affetti da emofilia gli studi tossicologici hanno mostrato che la somministrazione endovinosa locale elenco degli eccipienti polvere saccarosio sodio cloruro calcio cloruro bidrato arginina cloridrato sodio citrato bidrato poloxamer 188 solvente acqua per preparazioni iniettabili farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di nuvica base di simoctocog alfa sono nuvic fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato